E' importante e significativo perché a parte che ci rifacciamo e abbiamo bisogno di farla questa riflessione sulla fragilità della nostra vita, ma poi anche è una celebrazione di speranza perché non è una fragilità abbandonata a se stessa, ma è una fragilità accolta dal nostro Signore, fatta sua e riscattata attraverso il mistero della sua morte e risurrezione. Quel mistero che noi fra qualche attimo rinnoveremo su questo altare qui preparato all'ingresso del cimitero. Ricordando i nostri cari che qui giacciano nelle loro spoglie in attesa della risurrezione, noi siamo stimolati a fare riflessioni serie su come conduciamo la nostra vita e come potremmo fare per farla andare un po' meglio.